Io credo che il maggior contro della ficzione italiana, anche quella di maggior successo come abbiamo visto soprattutto nelle ultime settimane con ascolti che da anni forse non si vedevano più è la mancanza credo di contatto con la buona parte della realtà contemporanea, anche le storie più come dire che hanno provato e con grande successo devo dire drammaturgico anche di raccontare per esempio la crisi che c'è in contemporanea come per esempio la fiction come l'hai stata incontrata, Un'altra vita che ha fatto Ascolti Record, pur nel tentativo assolutamente incomiabile e a volte anche drammaticamente riuscito di raccontare la voglia di riscatto sociale, di rivincita sociale della protagonista manchi molto secondo me di realtà, è come se fosse una storia di oggi raccontata sempre con strumenti degli anni 50 e questo credo sia il limite maggiore non soltanto di questa fiction in particolare ma della maggior parte delle fiction italiane ancora, anche quelle più riuscite, anche quelle più magari più moderne come squadra antimafia di Canale 5 mancano ancora di un certo mordente, un certo senso della realtà Ok, le ringraziamo